di creativo che polle che fastidio mamma mia che bambino di merda sicuramente non entra perché perfetto ci odio perfetto o no perché è passato un casino di tempo però meglio tardi che mai l'orero quando tornerà significa comunque pv abbiamo riuscito a fargli dire una parolaccia manca solo che lui dica una parolaccia ed è finita per lui le rimano una di quelle segnalazioni che la sua mamma dovrà ricomprargli la play per giocare sì 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 c'è la live lagga l'altra cosa non lagga sembra che non c'è l'altra mira in questa account let's go i have our time let's go i have our time no cosa vedo subito è online non 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 è Xnxvonify Che c'è Xnxvonify Delgabri Oxygenxide Oddio è vero Oxygenxide Non lo so In chiaro non prende solo il live Ha appena detto Bella che c'è live Si A favorita Uscito Uscito proprio uscito Si può stare il controllo dell'Xbox su play C'è in realtà si che si può stare che non so come Come mi chiamo io su questo account? Come dici di chiamarmi? Ovvio Ovvio Un metanoisi Non tutti O tutti Ok 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 caccia che in mano quindi si chiama oxy come si chiama oxigen bella mi piace quindi comunque bravo vinto e alla scommessa mi dovresti fare una skin come capone ha pure cavall capone su questa cosa quindi è meglio come come aspetta come camoni come camoni come camoni come 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 vita benevolo con cristiano con l'avvento non più poi mai litigato con christian no oggi abbiamo un po chiarito perché si è diviso nella nostra classe oggi è un po chiarito perché praticamente lui vuole che io sia o in un clan o nel clan di rainbow o nel clan di fortnite e quindi stai nel clan di rainbow a combattere perché con lui con lui è solo uno store a giocare con lui si è sprecato a giocare con lui beh diciamo che forte ma lui perché lui ti piace giocare con lui no ma ti sei live a questo la conto che ti dicevamo comunque prego fra prego perché se non c'è gioco perché hai la trasmissione attiva ho la trasmissione attiva perché mi andava uno secondo perché non so perché mi hai trasferito su gioco e perché tu sei in partita a me dice che tu sei in partita io posso parlare con te anche se tu sei in partita penso che si sia in partita non sei in partita no si che sono in partita è successo qualcosa sponde aspetta provo a rientrare in partita mi si era rimesso a casa chat party si è in partita suati fanno a critico no 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 che è brutto non avere niente schiena armio presi ma tu hai abbandonato forte in età quello che ho capito no no ciò ci gioco però sicuramente di meno di quanto ci dava un po' di tempo fa ah no perché ma no no niente 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 raga il fulmo del vulcano è blu? WTF? ho so diventato dal tonico oppure oddio il fumo del... no bro vai a guardarlo lo giuro io io boh io boh io boh io boh io boh e che significa e che significa che non in live io lo vado il vulcano eh sì guarda eh sì guarda sempre tu ha detto tu sì sì guarda eh sì sì tu sei sempre una scusa guarda ti trovi tu no ragà guardate questo no 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 guarda che sono no 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 vai a guarda che sono c ما quel bambino con... quel... quel... qual la che stavo... non c'è Cristo alessandro girolami non ti conosco comunque bella no visto non c'è fanta la juventus mamma mia clip it brother fuck no so shit sì vabbè vuoca ciò vabbè tanto la sappiamo che non torno mamma mia stavano i bambini in parte non capisco perché non li molla ma va fastidioso stai diventando fastidioso perché ma stessi un solissimo che problemi di fai sì perché no vabbè perché quando eravamo in party insultano questi bambini a casa guarda che stavano inserendo anche a davide questi qua ok adesso i dos aspetta come la sua parte inserendo la sua parte a davide a davide soltanto andrea israeli e appunto extra stavano insultando a david ha detto che gli arriva il cazzo e non è vero a david ha detto che gli arriva il cazzo e non è vero a david ha detto che gli arriva il cazzo e non è vero Forza a testa, raga. Ok, ho ripreso l'IP. Ci sei? Sì, bro, sped un secondo. Sto a fight up. Sto a fight up. sono in partita bra una morta morti tutti però fui a capa iushan bambora ho il fisico perfetto da fatto mamma ti sogni tutte le sere tu non hai mai sfogliam non fanno vita mia se palle pupa pam hai diecino amore bambola ho il parco fisico perfetto da fatto mamma bambola ho il fisico perfetto da fatto mamma è entrato kst yas che cosa mi serve però bravo devo andarci no non è sicuro quindi togliamo qua qua no non è sicuro quattro Cosa? tanto ci sei siamo in cinque o sei il me ne sto facendo molto vabbè l'importante è che faccio una vittoria così mi sblocco con l'ombrello del cazzo in questo conto lo sai che mi sono pure impegnata a fare le vittorie bro perché un clan non mi voleva perché avevo troppo poche vittorie però ero forte capito ero c'è me la capicchiavo vabbè mamma quanto mi manca per rainbow 11 ore già come fai a saperlo boh con le h con trekker giochi un po forte a fare creativa però io sono già suonato l'hob io gioco da l'altra sezione o 84 cioè gioco con questo sì in realtà era anche quello di chris è solo che cresciamo vuole quittare quindi me lo sono preso io il nome prima partita del giorno però me lo voglio ma chi è che c'è lei ci sei tu no se vuoi ti faccio da moderatore ma non puoi fare da moderatore come no a parte che non c'è nessuno in live ma in che account di youtube sei scusa a quello che avevo visto capisco non devi prendere le armi ora aspetta che mi sono dimenticato di mettere una cosa nu c'è ancora mi fai spazzare mi caccia giusto Quanto appena ti faccio questa cosa qua, ti faccio un minchia a me darebbe farsi di un casino ti faccio questa cosa qua, guarda ah ce l'avevo l'ho a me fa razzicare no, io ci avevo ho comprato rimbalzi una volta poi l'ho vendita ho fatto la mia prima vittoria per farti capire la mia prima vittoria nella season 3 l'ho fatta mamma mia con il mietitore l'ho fatta ma da quanto ero felice appena avevo sbloccato il mietitore felicissimo, niente cura lo copro più che altro io mi chocco mi chocco il passo ti chocco il passo no a me vanno bene con la cassa al massimo a volte matari ai venti di vita fuck, ti devo killare col caccia per forza dai non fare scale su scale no vabbè che ho vinto ah ah volevo provare a fare un trick ma mi devo ancora allenare per fare quello ma tu da 1 a 10 col caccia quanto sono forte cioè in senso quanto me la cavo almeno vabbè cavi te la cavi benissimo secondo me tu ti stupivi quando allora all'inizio quando ci siamo conosciuti eh aspetta ti stupivi sul fatto che ero bravo col caccia e tu non eri bravo anzi non eri mo- cioè no no il contrario eri scarso ma quanto dato consigli tu ti sei messo sotto ma da o quanto sei diventato bravo col caccia ah ho visto nooo era hit crush lo schifo ah ha gg la supercender quella era un hit sex aspetta bello che ti sia buggato ah ah lo miro la mira conoscu oh oh ah 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 ho rischiato un botto ma guarda che può usare anche l'altra opzione di schermo ah ho sbagliato il 90 sbagliatissimo 90 no se te la facevo di no E' fatto di no, scoppi da solo per te. Ho impagliato anche io qua. Non c'è il ritardo. Non c'è tutto, vero? No, no, no. Però se sta riniziare, quanto si fai? 100, 100. Tu hai riniziare? Sì, sì, scendi, anche io. Ale se mi cambi il nome, così... Ale se mi cambi il nome, cambio il trade, dai. Te la cambio subito proprio, dai, va bene? Ale... Aspetta tanto, mi cambi il nome un attimo, eh. Aspetta che mi guardo come ti chiami tu. Come ti chiami? Oxygen. Oxygen, ok. Ale... Allora, gestione account. Postazione sull'account. Decidi chiamarmi... E' appunto. No, no, no. Oxygen va benissimo. A me piace, sinceramente. Com'è che si chiama il... Com'è che faccio a cambiare il mio nome? Dov'è che devo andare? So... Gestione account. Informazioni sull'account. Dov'è che devo... Come dove c'è il profilo? Ah, sì, ok. Ok, di online. Modifica il tuo di online. Ma la puoi fare quando vuoi? Lo posso fare? Quindi lo posso cambiare solo una volta? Devo stare attento a quello che faccio, allora. Dai, vabbè, lo faccio. Se tu mi prometti che non succedono disastri... Lo faccio, Anto. Che cosa metto? Oxygen o... Nexus? Tieni Ale, mettimela. Ale, mettila. Adesso ti sto attaccando. Ok. Allora. Aspetta un attimo. Cazzo sta attaccando su Clash of Clans. Inventi, ho accarezzato la mia bambina. Amore mio. 22. 22. Anzi, 23. Amore. Bellissimo. Amore. quando ti guarda e ti gira. Amore. E si gira come ti guarda. Sembra. Tipo come per dire... Ciao. Pai gioco i suoi. Amore. Rimani con noi ciccia. Rimani con noi. Con mail e password. Anto. Anto una cosa molto importante. Ale mettimelo. Ale mettilo. Ale. Ale hai finito l'attacco dai. Una cosa molto importante. Quando cambio le skin mi ha chiesto mio fratello. I dati. Mi sto girando. I dati. Aserisco le skin da un accanto all'altro. No no no. Eh l'ho capito no. A parte che lo devi spiegare a mio fratello. E due. I dati. Li salva. Perché lui ha paura che magari i dati si salvino nell'account. E quindi. Io posso vedere i suoi dati. Si possono vedere? Ah vai. Ma quelli non gliene frega niente a lui. Attanto gli ho messi io quei dati a caso. Devo sconnettere? Aspetta. Non fa? Non fa? Aspetta. Ah quindi. Ma. Quindi devo collegare e basta quindi. Cioè non è che devo. Non devo scambiare niente dati e niente. È vero? Eh ma devo farmi l'account epic di Axudrift però. Eh lo so ma. Ci sono dei dati. Però. Non so se mio fratello. Devi spiegarglielo a lui. Eh vabbè. L'ho capito. L'ho capito. Lo devi spiegare a lui però. Ma tranquilla. Ma guarda. Non è il tipo. Tranquilla. Allora. Ripetimi frase per frase. Allora. Allora. Vai sul sito P-Games. Ah vabbè. Ok. Da IP Games. E come faccio a scollegarlo a su Fortnite? E come faccio a scollegarlo a su Fortnite l'account di Axudrift? Ma devo andare su dove per scollegarlo? Eh ma devo avere password email dell'account di Axudrift. Ah vabbè. Di XX Manuel me la mette lui. Poi di Axudrift. Ma ascoltami un attimo. Devi dirmi se o no adesso. I dati. I dati. Rimangono. I dati. Io li posso vedere sì o no? Perché mio fratello li vuole tenere privati che non li posso vedere manco io. Ah ok appunto. Non posso vederli. Per vederli dovrei sapere la password. Giusto? Eh vabbè allora non posso. Ale comunque non posso vederli eh quei dati che dici tu. Ehi Amaro. Mi sta recuperando la password. Che carino mio fratello. Mi sta recuperando la password. Ale tieni un attimo questo. Eh Manuel mi stai alloriando. Anto vado a prendere un paio di cose. Adesso vuoi parlare con mio fratello eh. Un minuto. Io abbroni. Senta. A ver. Come stai? Allora è mandato mani a che ora devo tornare a comprare. Allora è mandato mani a che ora devo tornare a comprare. Mamma l'acqua la fa tenere. Poi adesso tanto mi recupero anche l'account di YouTube. Metto quello da 16 iscritti non quello da 100. Perché ormai a quello di 100 non ci sta più nessuno. Che buonigetto che sei amore mio. Che bella che sei mamma mia. Ma più bella. Non puoi essere amore mio. Sei bellissimo. Ma... Eh non posso. Ora non posso. Ma sei buono amore. Ma non c'è... Cosa mi stai mordendo amore? Nini 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 nini. Ah ma ma ma. Eh pa 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 pa. 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 Ah. Che bella che sei mamma mia. Più bella non potevi essere guarda. Mi metto noisy come nome? Sì o no? Ho fatality. Metto fatality. Eh dimmi un nome. La prima modifica è gratuita. La prima... Nuo video line... La prima è gratuita c'è scritto. Che nome... Ah metto... Metto... Oxygen. Oxi... Oxygen. Oxygen. Sicuro oxygen. Perché non facciamo i void? Oxygen. Ah vero? Oxygen... Eh... Poi? Per... Vedo come ci stanno noisy. Oxygen. Oxygen. Non so... Sono indeciso perché lo posso fare solo una volta. Ma ti hai pagato 5 euro per farti di nuovo l'account? Oxygen. Ma... Ma sei sicuro che... Questa cosa si può fare Anto? Perché Oxygen? Oxygen. A te è sicuro che va bene. Perché io Anto è una... La posso fare solo una volta. No, allora Anto... Devi fare... Allora... Sarà sempre Oxygen o lo potresti cambiare? Ti piace Oxygen? Ok. Messo Oxygen. A posto. Oxygen noise. Solo il nuovo id. Id precedente o nuovo. Metto anche l'id precedente? Oppure solo il nuovo id? Ok. No, l'amete di precedente o nuovo perché mi...